Musica Gentili telespettatori, buonasera dagli studi Tele Molise di Isernia. Questa volta il turno di Isernia per la puntata di ingresso libero del venerdì di questa settimana e come sempre affrontiamo argomenti di attualità, argomenti politici, argomenti di cronaca, argomenti che hanno tenuto desta l'opinione pubblica regionale. Come primo ospite di questa puntata di ingresso libero abbiamo il piacere di avere in studio l'avvocato Vincenzo Iacovino, conosciutissimo, famosissimo, celebre direi anche a livello nazionale e abbiamo dovuto fare un po' di corte per portarlo qui, insomma abbiamo lavorato un po' per portarlo e averlo come ospite d'apertura di questa puntata. Domande per Iacovino ce ne sarebbero mille da fare ma noi ci limiteremo a 3-4 argomenti principali. Cominciando col dire che Iacovino è sulla cronaca in Molise attualmente come difensore, come avvocato del comitato vittime del Covid, il comitato molisano delle vittime del Covid che ha sollecitato un'inchiesta giudiziaria. Allora Iacovino perché il comitato delle vittime Covid ritiene che ci siano i margini per un'azione giudiziaria per quello che è successo? Prego. Intanto grazie a voi per avermi invitato, sono qui molto volentieri. Noi abbiamo fatto diversi esposti per il comitato delle vittime verità e dignità Covid perché abbiamo sostanzialmente raccolto documenti e testimonianze importanti che a nostro modo di vedere evidenziavano delle criticità nella gestione della sanità, io le chiamo criticità ma a nostro modo di vedere delle illiceità, che abbiamo ritenuto opportuno portare all'attenzione della Procura della Repubblica affinché le valuti e ovviamente a seguito di questa valutazione ne faccia tesoro al fine di giungere a ipotizzare eventuali reati ed eventuali responsabili. Abbiamo fatto quattro esposti più abbiamo fatto una nota di sostegno all'indagine in corso chiedendo quindi una consulenza assistita e partecipata e la nomina di consulenti con particolari conoscenze della sanità e quindi con caratteristiche tecnico-scientifiche di rilievo. Abbiamo appreso che la Procura in effetti ha nominato quattro periti e evidentemente vuole approfondire e capire meglio tutto quello che è successo. Andiamo con ordine. State prima voi l'esposto o è prima la Procura che avvia l'indagine? Questo non è dato saperlo perché noi sappiamo dei nostri esposti. Il nostro primo esposto mi sembra è datato agli inizi di novembre. Siamo in piena seconda ondata quando l'indice di mortalità era molto elevato e soprattutto in termini percentuali il risultato può essere il più alto d'Italia perché siamo giunti a circa 500 vittime. Noi abbiamo evidenziato dei fatti che sono riconducibili ai primi di marzo del 2020. Nel senso che abbiamo colto immediatamente la gravità della cosa tant'è vero che io personalmente avevo fatto un atto di invito sia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che alle autorità locali di autorità quindi di protezione civile oltre che sanitaria a individuare un centro Covid immediatamente come già prescriveva la prima ordinanza emergenziale. Ma a me siamo ad oggi e un centro Covid in Munizia non ce l'ha, l'unica regione italiana che non ha il centro Covid. Quindi Avvocato voi fate questo esposto, le famiglie vengono da lei, fate l'esposto e che cosa lamentate in particolare? Che cosa dite? Secondo voi perché non ha funzionato la sanità e perché queste vite perché queste vite potevano essere salvate? Secondo voi? Secondo il Comitato? Ma è innegabile che c'è stata una pandemia quindi è innegabile che il primo manifestarsi di questo virus ha trovato tutti spiazzati. Quello che noi riteniamo invece criticabile e ovviamente su basi anche oggettive è il fatto che con la seconda ondata che era non solo prevista ma gestibile la sanità molisana si è trovata impreparata e quindi ha mostrato delle grosse criticità. Noi abbiamo allegato alle nostre denunce quindi le denunce che hanno fatto i medici. Qui noi abbiamo il dottor Cecere e altri primari che la prima denuncia è datata aprile, primo aprile, mi sembra, o due aprile del 2020 dove denunciavano delle criticità e dove diciamo paventavano già in quel momento la possibilità di una pandemia all'interno dell'ospedale e questo si è verificato cioè l'ospedale Cardarelli ha dovuto chiudere poi delle strutture perché è stato utilizzato come centro hub covid e quindi devo dire in modo improprio causando a sua volta quindi pandemia nell'ambito della struttura sanitaria e noi abbiamo dei decessi che stiamo seguendo sostanzialmente in termini diciamo giuridici dove soggetti ricoverati per patologie tempodipendenti hanno contratto il virus nelle strutture sanitarie e sono deceduti e lì c'è una responsabilità oggettiva oggettiva Senta Avvocato, lei ha ragione quando dice queste cose ma in particolare le famiglie e infatti noi abbiamo avuto le testimonianze che poi non è che le testimonianze le hanno date solo gli organi di formazione locale le testimonianze sono date su tutti i network nazionali su tutti i media nazionali Mediaset, Rai quelle persone che si lamentavano perché i propri genitori i propri parenti erano senza ossigeno addirittura ultimamente qualche giorno fa la notizia che a un paziente era stato rubato tutto insomma un paziente che poi era morto era stato rubato tutto anche la fede denunziale insomma tutto tutto questo fa parte di questo elenco di doglianze che voi avete presentato in Procura Assolutamente sì ovviamente l'ultimo evento della persona che stiamo assistendo quella che ha subito anche il furto dei beni personali è chiaro che è stata fatta una denuncia al momento contro i gnoti perché non possiamo addebitare a nessuno la responsabilità di un furto se non alla struttura per quelli che sono i principi elementari del diritto in termini di custodia dei beni cioè perché è chiaro che un paziente quando si ricovera il suo pensiero non deve essere se viene derubato ma quello di superare la sua malattia e quindi anche l'intervento noi abbiamo in verità esposto quelle che sono le criticità evidenziate e torno a ripetere non solo dai medici di chirurgia ma anche dai medici di medicina dell'ospedale dove sono stati critici in modo pesante nei confronti della dirigenza sanitaria dove lamentavano facendo presente che c'erano state già delle infezioni nell'ambito del personale sanitario a cui noi portiamo molto rispetto molto rispetto e quindi abbiamo visto che sostanzialmente ci sono state delle criticità che a nostro modo di vedere devono avere necessariamente delle considerazioni sotto il profilo della ipotesi di reato mettiamola così perché io devo portare rispetto diciamo a quelle che sono le denunce e a soggetti che al momento non sono evidenti sotto il profilo delle responsabilità anche se secondo noi hanno nomi e cognomi precisi coloro che hanno provocato il disastro sanitario e umanitario nella nostra terra un disastro che insomma sia adesso i contagi sono finiti la situazione è migliorata però i morti restano ci sono 500 morti su cui bisogna fare giustizia Jacovino si poteva salvare qualcuno di loro? assolutamente sì quando meno potevano evitarsi 500 morti perché sicuramente la pandemia avrebbe portato a dei decessi soprattutto rispetto a persone che presentavano delle situazioni cliniche abbastanza complicate però ci possiamo dire tranquillamente che qualcosa anzi più di qualcosa non ha funzionato in questa gestione sanitaria locale tant'è vero che c'erano nei ritardi nei ricoveri c'erano poi degli assembramenti al pronto soccorso tant'è vero che una di queste persone è deceduta dopo tre giorni di attesa sulla barella al pronto soccorso poi c'era un ingorgo a malattie infettive e poi da questo ingorgo a malattie infettive abbiamo saputo perché più o meno c'era la difficoltà a passare a terapia intensiva i cui numeri sono risultati ballerini perché non c'erano posti e i posti che dicevano che avevamo disponibili non c'erano questa è la realtà dei fatti perché noi ci davano dei numeri che sembravano disponibili in termini percentuali ma di fatto non erano disponibili per cui si è creato l'ingorgo a malattie infettive e quindi non si oltrepassava quindi ad altri reparti e quindi la gente è morta anche a malattie infettive è morta nei reparti è morta addirittura è morta a casa è morta al pronto soccorso è morta presso le corsie per patologie e poi c'è anche il caso di chi è ricoverato senza covid esatto prende il covid e muore esatto è deceduto in corsia in ospedale per patologie e tempo dipendenti che poi hanno avuto diciamo l'aggravarsi attraverso il covid e dopo di che si muore a malattie infettive e ovviamente si è morti anche lo dico a un cultore del diritto quale è lei ma in questi casi in cui c'è l'emergenza è come una guerra è come un terremoto è come si possono cercare le responsabilità di fronte a questi eventi imprevedibili ecco qui c'è c'è un profilo sottile di interpretazione del diritto può essere individuata una responsabilità individuale di fronte a una catastrofe imprevista Iacovino beh intanto l'utilizzo della normale diligenza da parte del professionista è un criterio di individuazione o esclusione della responsabilità cioè se io sbaglio una causa deve essere un errore non grossolano ok ovviamente è chiaro che in tempi eccezionali come questo l'esimente di responsabilità se può valere per il primo periodo perché io l'ho evidenziato questo non può valere per il secondo periodo che è intervenuto da metà settembre ottobre in poi lo sapevano tutti tant'è vero che il direttore generale scrive una nota ai medici e al personale del pronto soccorso dicendo testuale e qui noi ne abbiamo preso atto e spero che la procura approfondisca questo argomento che in caso di soggetti con con questa patologia derivante dal virus dovevano transitare tramite il 118 al pronto soccorso e essere trasportati quindi presso l'ospedale Cardarelli su questo noi non toglieremo né distoglieremo la nostra attenzione il Cardarelli doveva rimanere un hub dedicato alle patologie a tempo dipendenti si doveva creare secondo normativa emergenziale un centro covid questo non è stato fatto noi diciamo che se questo fosse avvenuto noi avremmo salvato forse diverse vite umane poi c'è tutto il problema dell'individuazione del centro covid dove si è aperta una puntata vergognosa politicamente parlando oltre che sotto il profilo della gestione sanitaria che non ha confini perché noi avevamo e abbiamo tuttora un ospedale di eccellenza che è Larino che poteva ovviamente ospitare il centro covid dove abbiamo assistito non si sa per quale motivo ancora oggi inspiegabile se non per interessi di bottega dove diciamo è stato inesorabilmente mortificato ed è stato abbandonato la procura ha nominato quattro consulenti chi è per cosa avvocato ovviamente spero per dipanare diciamo dubbi e soprattutto per approfondire per rispondere a queste domande per approfondire aspetti tecnico-giuridici diversamente non affrontabili da una persona normalmente perché è chiaro che per dipanare questi dubbi c'è necessità di avere dei consulenti cosa che noi stiamo facendo nel nostro piccolo noi nell'esaminare le singole posizioni abbiamo un collegio medico di soggetti tecnicamente all'altezza della situazione che ci danno dei consigli avvocato Iacovino sa benissimo che si sta discutendo di uno scudo penale per l'emergenza covid che vuol dire lo scudo penale che tutte le responsabilità penali legate alle morti alle disfunzioni a tutto il resto potrebbero essere salvate da un salvacondotto cassate da un salvacondotto del governo fa una legge si aboliscono le responsabilità penali non so se possono abolire quelle civili di avvocato Iacovino quella civile ritengo sia impossibile perché è ovvio che se c'è un decesso ed è attribuibile a qualcuno qualcuno deve comunque pagare e dopo lo scudo penale che succede? con lo scudo penale ovviamente si innalza diciamo lesimente rispetto all'ipotesi di reato e lo ritengo anche diciamo per un attimo giusto ma giusto nei confronti dell'operatore sanitario perché l'operatore sanitario non può vivere con la spada di Damo che durante una fase emergenziale come quella eccezionale perché se l'emergenza c'è c'è e se ordinare l'emergenza non c'è esimente che tenga in questo caso invece io ritengo che quantomeno per il primo periodo debba scattare una protezione per i sanitari che si sono trovati di fronte a un fatto eccezionale io sono d'accordo in questo fermo restando che laddove diciamo c'è una responsabilità grossolana per assenza di cura o per assenza di diagnosi o di diagnosi erronea è chiaro che lì non c'è esimente che tenga né scudo che tenga secondo me Avvocato quindi chiudiamo con un'ultima domanda del discorso Molise poi passiamo al discorso di carattere nazionale per ora l'indagato l'unico indagato è il generale l'ex commissario del generale Giustini secondo lei ma questo non è un magistrato lei è un avvocato secondo lei si fermerà Giustini oppure andrà avanti questa cosa secondo lei a suo avviso ma io sono rimasto molto sorpreso della scelta della procura di iniziare da Giustini ovviamente se Giustini avrà delle responsabilità di cui rispondere ne risponderà ma una cosa è certa e su questo noi non molleremo i responsabili di questo disastro sanitario umanitario hanno nomi e cognomi diversi dal commissario Giustini il commissario Giustini aveva una facoltà di programmazione non gestionale l'attività gestionale della sanità molisana sappiamo bene a chi compete così come sappiamo bene a chi competono i poteri di protezione civile in questa regione hanno dei nomi e cognomi precisi ovviamente noi per il momento siamo in attesa di sapere quali sviluppi avrà questa indagine che al momento ci vede spettatori ma non siamo inerti noi siamo molto attenti tanto è vero abbiamo presentato tre esposti più una memoria torno a ripetere di ausilio e di sostegno alla procura perché noi siamo a fianco alla procura perché vogliamo la verità su quanto è accaduto la vergogna del centro covid assente nel Molise è sinonimo di responsabilità oggettiva delle strutture per poi affrontare il problema diciamo delle responsabilità personali ma da lì dal penale si scivola sul civile sul politico insomma Iacovino ma a noi il politico sono scelte politiche no vabbè è chiaro che sono scelte che non so per quale motivo la cosa se lo può portare in tribunale perché non hanno scelto Campobasso Larino insomma se si configura un reato o una responsabilità civile beh andando se non c'è un centro covid questo determina una responsabilità in termini di gestione della cosa pubblica e degli effetti che ha avuto nella gestione della sanità perché se io ho avuto un ingorgo nell'accedere a un pronto soccorso se ho avuto un ingorgo nell'accedere a malattie infettive per poi passare a terapia intensiva quando io avrei potuto avere un'altra agibilità verso un centro dedicato è tutto dire su questo però lascio ovviamente lavorare alla procura noi abbiamo le nostre idee sul punto ma una cosa è certa il centro covid nel Mudise non è stato voluto per scelte politiche scellerate e davvero irresponsabili perché noi sappiamo vite e miracoli dei progetti che sono stati presentati dei progetti che erano sostenibili dei progetti che avevano un costo molto limitato a fronte della famosa torre degli asinelli che noi abbiamo ribattezzato tale che ancora non vediamo peraltro dove gli unici costi sono stati quelli dei progettisti mi sembra di ricordare 500 mila euro e non abbiamo il centro covid Avvocato quante persone le hanno firmato questo ricorso? Molte persone Bene e adesso siccome lei è un Avvocato anche famoso a livello nazionale passiamo al nazionale ovviamente mi consente di dire che siccome noi non rimaniamo fermi abbiamo già promosso le prime azioni civili e le prime cause si discuteranno a metà diciamo settembre davanti al giudice di Dedda di Campobasso cause civili contro chi? Contro l'ASL Ah quindi andate dritti verso l'ASL Sì noi riteniamo che ci sia una responsabilità oggettiva della struttura poi vedremo le responsabilità penali cause civili assolutamente sì ci dovete rimborsare ci dovete indennizzare assolutamente sì ebbene chiudiamo quindi il discorso di carattere regionale molisano per passare a un discorso di carattere più nazionale quello del momento del difficile momento che sta vivendo la giustizia italiana gli ultimi episodi parlano chiaro il fatto di Stresa il fatto della Corte d'Appello di Napoli il fatto di Palamare ma cominciamo con Stresa secondo lei Avvocato Iacovino lei che è così aggiornato su queste tematiche di carattere nazionale ricordiamo che Iacovino è un avvocato che segue a livello nazionale le problematiche dei giornalisti soprattutto nei rapporti con la RAI allora Iacovino secondo lei a Stresa che sta succedendo ma è giusto che un presidente di tribunale tolga un GIP e ne metta un altro come se volesse punire quel GIP che ha scarcerato gli indagati questa è l'impressione che ha dato e poi magari ci sono altri motivi diciamo che quando ci sono queste indagini che nascono su tragedie come quella che abbiamo visto e vissuto anche noi qui nel Molise ci rendiamo conto che c'è una partecipazione emotiva da parte di un giudice che porta ad essere prudente e porta anche a una compartecipazione del magistrato nella ricerca delle responsabilità devo dire che la procura è stata molto tempestiva la procura di Stresa nella ricercare la verità su quanto è accaduto e devo dire che diciamo dalle indagini che sono in corso sono venute fuori delle responsabilità oggettive peraltro ci risulta da quello che leggiamo in parte ammesse anche dai soggetti che sono stati chiamati poi ad esporre le loro posizioni rispetto a quanto accaduto sotto il profilo tecnico il GIP ha ovviamente preso una decisione a mio modesto avviso positiva perché se un fatto è accertato e se non c'è il pericolo della reiterazione o della fuga del soggetto che è indagato la carcerazione preventiva non serve quindi bene ha fatto il GIP lo ha detto anche pubblicamente a rendere libero un soggetto che deve affrontare un processo seppure ha confessato seppure ha affermato che ci siano delle sue responsabilità perché fino a quando quella decisione che ancora non c'è quindi il processo ancora non parte fino a quando un processo non si conclude con la sendenza passata in giudicato quella persona deve vivere in libertà io sono un garantista assoluto cioè non possiamo pensare però poi il Presidente del Tribunale prende quel GIP e lo toglie proprio toglie il GIP che ha liberato queste due persone perché ecco questo è un forte è un gesto molto forte diciamolo anche la verità c'è la voglia di mettere alla gogna diciamo il responsabile ipotetico e c'è stata anche una campagna mediatica e una pressione mediatica sui magistrati per cui i magistrati avvertono questa pressione e sostanzialmente tendono ad accelerare i tempi processuali ma con questo non si può pensare che un giudice che nel rispetto della Costituzione della legge del codice penale ha ritenuto di revocare gli arresti domiciliari a due persone e conservarlo per uno quindi avrà dei buoni motivi io non conosco i motivi per carità avrà avuto dei buoni motivi tecnici per sostenere questa scelta io devo dire che valo dato quel magistrato che sostanzialmente tende a garantire i soggetti che sono ripetuti se non so se ci sono delle imputazioni provvisorie mi sfuggono degli elementi tecnici ma devo dire che lode a quel magistrato che è garantista rispetto all'applicazione di una pena che deve esserci solo dopo che c'è un processo penale non prima del processo quindi con tutto il rispetto per la procura ma la procura deve fare il suo dovere nel rispetto delle regole non può pretendere di mettere agli arresti una persona a vita perché l'arresto diciamo cautelativo ha una funzione oltre a quella funzione se il presupposto viene meno quella funzione deve venire meno quindi ci sta poco da fare non esiste l'arresto preventivo senza una scadenza e senza un motivo e quello che è accaduto a Napoli che sta suscitando clamore tanto che le camere penali della Campania hanno organizzato uno sciopero a Napoli addirittura un avvocato ha scoperto che una sezione della Corte d'Appello di Napoli il relatore ha già scritto la sentenza aveva già scritto tutto e ha messo deciso in Camera di Consiglio con i tre nomi dei giudici sotto insomma praticamente una sentenza preconfezionata a monte della discussione in aula questo è qualcosa di veramente incredibile che ne pensa? diciamo che questa è la mortificazione della professionalità del magistrato del processo e la morte della professione dell'avvocato e soprattutto la morte di un diritto cioè se io ho diritto a un ecoprocesso io ho diritto anche a discutere il processo ora noi abbiamo avuto diciamo la limitazione di diritti costituzionali qual è quello della difesa e della giusta difesa in un'udienza che prevede anche la possibilità da parte di un avvocato di esigere di parlare in un processo per difendere il suo assistito non si può accettare è inammissibile che un giudice possa scrivere la sentenza prima che quel processo venga discusso in una udienza pubblica non è ammissibile per cui è un atto grave gravissimo bene hanno fatto gli avvocati delle camere penali di Napoli a proclamare uno stato di agitazione rispetto a un fatto del genere e io ritengo che questo magistrato debba rispondere agli organi competenti e ci deve dire e soprattutto ci deve spiegare come è stato possibile che lui avesse scritto già una sendenza nell'esercizio nel corso di un processo e prima della camera di consiglio insomma è tutto questo preconfezionato esatto ma no ma c'è un altro aspetto che forse sfugge cioè voglio dire scrivere una sentenza in questo modo senza e quindi se c'è la collegialità quindi è stato violato anche questo principio della collegialità perché non si può dire che sto portando portando all'attenzione del collegio una sentenza già scritta io posso portare degli appunti posso portare un mio una mia relazione tanto è vero che si chiama giudice relatore al collegio ma devo sostanzialmente non mortificare il processo diciamo a tal punto da svilirlo e quindi da mortificarlo quindi penalizzando quindi gli avvocati penalizzando diciamo l'imputato e penalizzando anche la magistratura parliamoci chiaro questo è un atto assolutamente deprecabile che fa male alla magistratura alla credibilità della magistratura già insomma abbastanza discussa in questi ultimi mesi dopo diciamo così dopo l'eclatante caso Palamara l'eclatante caso di Palamara che ha svelato insomma gli altarini ha fatto capire come funziona come funzionano le carriere dei magistrati come funziona l'assegnazione degli incarichi come funziona lo stesso sistema giustizia ed è qualcosa insomma di sconvolgente giusto avvocato Iacovino io ho trovato vergognoso quello che è accaduto perché io ho creduto e credo tuttora alla giustizia e per credere alla giustizia bisogna credere nella magistratura dal momento in cui la magistratura dà segni di cedimento tali da poter essere ritenuta parte di un sistema tant'è vero che Palamara scrive il suo libro Il sistema il sistema per me è venuto meno la garanzia dell'autonomia costituzionale di un organismo qual è il Consiglio Superiore della Magistratura e della magistratura stessa e quindi a mio modesto avviso va smantellato in questo momento il sistema che Palamara definisce tale per riportare diciamo equilibrio e autonomia in un organismo qual è il Consiglio Superiore della Magistratura e la gestione delle assunzioni dei trasferimenti che è riservato al Consiglio Superiore della Magistratura attraverso regole sane e costituzionalmente sostenibili perché il Tar Lazio e in pochi lo sanno ha messo in discussione la nomina del Procuratore della Repubblica di Roma proprio sul presupposto che non sarebbe stato correttamente motivato e sappiamo che quella nomina è figlia del sistema Palamara quindi io non mi discosto da quanto ho letto nella sprefazione quindi nell'antefatto che si titola Hotel Champagne quindi sono titoli emblematici quelli di Palamara dove dice testuale sono consapevole di aver contribuito a creare un sistema che per anni è inciso sul mondo della magistratura e di conseguenza sulle dinamiche politiche e sociali del Paese non rinnego ciò che ho fatto io ritengo che in questo caso siamo oltre il traffico delle influenze e Palamara va non solo radiato con tutto il rispetto di Palamara che è subiudice quindi fino a quando questa radiazione non sarà confermata quindi è un magistrato ma il mio augurio è che lui venga espulso dal sistema della magistratura ma vengono passate al setaccio tutte le nomine che sono state fatte con il sistema Palamara perché lui stesso vi invito a leggere questo libro di autodenuncia mette in discussione tutte le nomine ora è ovvio che non basta una semplice telefonata per mettere in discussione quindi una nomina ma è anche vero che se quella nomina è frutto di un sistema che non ha avuto adeguata motivazione e adeguato sostegno meritocratico è evidente che ho nominato un magistrato che forse non aveva requisiti penalizzando tanti altri magistrati che hanno lavorato bene avevano forse requisiti per ricoprire quel ruolo ecco nelle maglie di questo sistema poi è rimasto impigliato Palamara ma quanti tra virgolette Palamara ancora girano fluttuano in questo mare magnum dell'ingiustizia italiana intanto Palamara ha fatto dei nomi e cognomi che mi auguro che la procura di Perugia faccia luce ma soprattutto ci dica a noi popolo italiano visto che loro decidono in nome e per conto nostro e in alcuni casi io mi sono allontanato da quella decisione ci dicono come loro possano decidere in nome del popolo italiano attraverso un sistema descritto quale è quello di Palamara dove noi abbiamo capito che non solo venivano condizionate le nomine ma venivano condizionate anche i processi quindi è venuto fuori che attraverso le nomine che venivano fatte non con il sistema meritocratico poi si giungeva a chiedere le cortesie a coloro che i processi li dovevano svolgere questa è una vergogna che non può passare io mi auguro che i magistrati prima o poi scendano in campo e ci facciano vedere quanto loro possono scioperare o quanto possono dimostrare rispetto a questi signori che hanno penalizzato un'intera classe diciamo della magistratura non so se lei lo può dire ma vorrei chiudere questa simpatica parentesi con l'avvocato Iagovino con un suo giudizio secondo lei il sistema Palamara in Molise ha avuto dei risvolti o no? o in Molise siamo garantiti la magistratura che opera in Molise offre garanzie ai cittadini? ma un dato è certo che le nomine sono state fatte quando il sistema Palamara c'era così come le nomine sono state fatte quando Luca Lotti e Renzi che vengono citate da Palamara c'erano poi voglio dire se i magistrati nominati fanno parte del sistema nel senso che siano stati cooptati piuttosto che scelti dal Consiglio Superiore della Magistratura e sappiamo bene perché qui si descrive molto chiaramente come venivano le nomine se loro sono frutto di questa scelta io questo non lo so ecco perché io dico che e mi auguro che così non sia ovviamente io mi auguro che la Procura di Perugia faccia chiarezza su questa vergogna perché io voglio credere ancora nella giustizia ma per credere nella giustizia devo credere nella magistratura se non potrò più contare sulla magistratura vuol dire che non solo la giustizia è andata oltre il domestico ma la giustizia la dovrei fare io da avvocato e non so davanti a quale magistrato la potrei invocare io devo preoccuparmi che il magistrato sia solamente imparziale non appartenga a nessuno non appartiene al lobby ma soprattutto non risponda al lobby e non risponda alla politica grazie all'avvocato Enzo Egovino è stato nostro prezioso ospite di questa prima parte di ingresso libero ora vi lascio uno spazio pubblicitario torneremo subito dopo con un altro ospite pubblicità bene eccoci qui per la seconda parte di ingresso libero abbiamo con noi in studio il sottosegretario all'aggiunta regionale Roberto Di Baggio che torna in questi studi dopo qualche mese venne qui in autunno ora lo ospitiamo a giugno per avere con lui uno scambio di idee la prima domanda che gli faccio chiaramente l'abbiamo avuto qui come ospite l'ultima volta come assessore ora è qui come sottosegretario Roberto Di Baggio che cosa buonasera benvenuto buonasera a tutti grazie dell'invito che cosa è accaduto ma sera a ottobre già ero sottosegretario no quando è venuto era assessore era assessore quindi sarà stato settembre io non mi ricordo bene però era assessore che cosa è accaduto in questi mesi perché lei da assessore è diventato sottosegretario in che modo sono cambiati gli equilibri per far sì che succedesse tutto questo di Baggio ma perché diciamo che personalmente è cambiato poco perché mi continuavo mi occupavo delle stesse cose che mi occupo ora in aggiunta il presidente ha voluto affidarvi anche la delega all'ambiente che ho quindi da pochi mesi che che era un po' abbandonata è stata un po' abbandonata negli anni quindi nulla di particolare si lavora come prima anzi più di prima e proviamo a fare qualcosa purtroppo il periodo non è ecco ma che è successo politicamente in giunta regionale che salta un assessore di Forza Italia entra uno della Lega poi salta quello della Lega e entra diciamo così un indipendente ci racconti qualche retroscena insomma l'assessore di Forza Italia è solo cambiato da assessore a sottosegretario quindi è un ruolo nuovo per la regione Molise forse qualcuno non lo conosce però a mio avviso è un ruolo importante anzi più di rilievo questo forse lo si scoprirà e spieghiamo che fa il sottosegretario spieghiamo perché il sottosegretario oltre a avere quindi la presenza e quindi in giunta anche il ruolo di collegamento fra il Consiglio e la giunta ma soprattutto è diciamo l'uomo che va a sostituire il Presidente pure nelle commissioni nazionali va a far pare tutti i buchi insomma oltre quindi alle tele che al lavoro che svolgono normalmente a volte il Presidente mi fa mi nomina su delle commissioni che avvengono pure in conferenza è stato regione quindi io sono per me personalmente è una cosa che è superiore a quella dell'assessore poi ci sto lavorando e ci lavoro benissimo e quindi quindi lei non lo vede come una retrocessione ma io non lo vedo perché io continuo a fare quello che facevo prima anzi in maniera migliore quindi non penso sia il nome che cambia l'attività politica di una persona però sicuramente forse nelle altre regioni già c'era come figura forse in Molise il fatto che non c'era prima non si riesce a capire cos'era anzi ci fu per un breve periodo poi fu tolta perché non era prevista nello statuto all'inizio fu messa poi fu tolta poi c'è stato Quintino Pallante prima sottosegretario e poi diciamo così è passato promosso assessore e lei ha preso il posto di Pallante forse perché Pallante non aveva le tele che quando ha fatto il sottosegretario quindi si vedeva un po' diciamo una figura che aveva un ruolo generale però avendo le tele che è uguale non cambia assolutamente niente quindi lei ha capacità decisionali e operative ma la capacità decisionale l'assessore non l'ha cioè l'ha però è sempre riferita alla giunta ovviamente gli atti comunque vanno in giunta e riporta il presidente però cambia a mio avviso non cambia nulla è una figura che esiste in altre regioni e in altre regioni addirittura si fa la lotta chi deve fare il sottosegretario quindi io personalmente sono contento per me è meglio così e lei non ha non ha timore che la nomina della calenda possa rosicchiare in qualche modo il suo terreno elettorale ecco non possa toglierle dei voti sui segni questa è la domanda ma io non penso che tutti possano togliere i voti e tutti possono guadagnare io poi sono abituato a lavorare indipendentemente da non mi sono mai fatto di questi problemi prima c'è la mazzurro ora c'è la canetta non è non è un problema ma assolutamente poi con me c'è pure un buon rapporto quindi non ho problemi non è io lavoro a testa bassa la testa la si alza alla fine attualmente di cosa si sta occupando di Baggio come come delega sì diciamo sull'aspetto urbanistico è quasi ultimata la legge sismica che riposterò a breve sto cercando di purtroppo abbiamo carenze di personale i settori quindi sia dei beni ambientali che quello sismico in questo periodo in cui c'è la richiesta anche per le pratiche del super bonus hanno dei rallentamenti causati prima di tutto dalla dalla normativa nazionale che è difficile da da interpretare e da portare avanti dove noi pure come regione sottoscritto ha presentato degli emendamenti che penso che in questi giorni verranno approvati uno che riguarda lo snellimento della procedura del 110 che prevede principalmente due aspetti e questo ovviamente sarà il governo a definirlo uno che riguarda la conformità urbanistica parliamo del super bonus del super bonus 110 la conformità ecco chiariamo questa cosa assessore anzi sottosegretario chiariamo questa cosa qualora ci sia qualche vizio urbanistico sull'immobile qualche difettuccio qualcosa cioè su tutti gli immobili si addirittano al super bonus perché in tanti dicono sì bisogna fare lo stesso la domanda poi si sana in tanti dicono no non si può fare no la devi sanare prima e poi fare la domanda questa procedura che di sanare ti rallenta notevolmente la la procedura tant'è vero che in molti casi la sanatoria composta una procedura edilizia più complessa quindi la commissione sismica la commissione ambientale quindi c'è una procedura molto lunga che causa dei rallentamenti e si rischia che molti non riescono a concludere la sanatoria nei termini quindi abbiamo presentato personalmente delle delle modifiche alla normativa uno dove l'esclusione quindi della conformità urbanistica nella presentazione delle pratiche due la possibilità di fare un mini condono che riguarda proprio piccole opere modificando a due lo si potrebbe fare anche senza modificare senza chiamarlo condono perché se dà fastidio questa parola si potrebbe modificare il DPR 380 nella parte che parla delle tolleranze innalzando dal 2% al 10% faccio un esempio io ho pure la delega allo ACP no quindi là dovemmo intervenire per per riqualificare tutti gli immobili in maniera gratuita è un'occasione da non vero però nella quasi totalità in tutti i casi non lo possiamo fare perché su tutti gli immobili quasi c'è qualche problema faccio l'esempio una piccola veranda che è stata realizzata da un inquilino in maniera autonoma ti blocca il super bonus quindi che succede in questi casi che succede se non c'è un DPR di modificare che succede che succede o che l'inquilino smonti quindi elimini l'abuso facciamo l'esempio di una veranda elimini la veranda cosa difficile negli immobili immagina da chi chiede di smontanare la veranda oppure la deve sanare la cui sanatore è difficile perché l'ha aumento di volume la veranda e quindi c'è l'autorizzazione ambientale addirittura l'aumento di volume non si può manco lei quando parla di DPR si rilisce a un provvedimento regionale o nazionale DPR 380 è nazionale e lo faranno questa modifica io ho notizie che faranno o la modifica al DPR oppure toglieranno la dichiarazione di conformità nella presentazione del bonus si supera e si darà una vera accelerata agli immobili perché praticamente dalle prime notizie che ho nessuno può avere il super bonus perché in tutti i palazzi ci sono dei problemi che poi nel corso degli anni le normative si sono pure susseguite e modificate in alcuni anni c'è stato l'ex articolo 26 si chiama chiedere il mestiere dove non era nemmeno necessario fare delle dichiarazioni per piccole modifiche interne o cose quindi altri anni era libera poi c'è stata la scia la cila molte volte si sono fatti degli abusi senza in buona fede addirittura i proprietari si sono trovati già realizzati dai costruttori quindi non è giusto non poter partecipare per queste piccole diciamo difformità al super bonus Assessore un'altra cosa che dovreste fare come regione è quella relativa agli immobili è una legge regionale sugli airbnb c'è sui bnb ma non c'è sugli airbnb manca e lì lo strumento lo state preparando predisponendo che ormai il turismo è diffuso tutti quanti fanno questo airbnb ma non c'è una legge si agisce liberamente ognuno mette in casa degli ospiti perché perché non c'è la legge c'è la legge per il bed and breakfast ma non c'è per gli airbnb e che si sta praticamente ci sono questi alberghi diffusi e senza normativa si è sempre fa parte del piano del turismo questa cosa viene eseguita dall'assessore al turismo e so che ci stanno lavorando che fa parte anche del piano regionale del turismo quindi notizie precise non ne ho e non le posso dare però so che ci stanno lavorando senta Di Baggio equilibri regionali una regione che si regge una maggioranza che si regge sul filo di un voto praticamente il giorno che un consigliere decide di restare a casa potete andare sotto come si può andare avanti in queste condizioni lei non non pensa che sarebbe giusto allargare insomma cercare di dialogare con la maggioranza che sta con le minoranze con il centro-destra che sta in minoranza io personalmente dialogo potrei dialogare con tutti non è il problema se poi c'è l'altro che vuole sentire quindi questo è fondamentale ma diciamo il problema non è se 11, 12 o 13 il problema è del Molise come lo è anche di altre due regioni mi sembra Marche e non mi ricordo la Basilicata che hanno questo premio di maggioranza così disicato e se ne sta disponendo a livello nazionale per modificare un po' l'attribuzione dei consigli perché cambia molto fra 11 e 13 si cambia però se diciamo che questo fatto di essere disicati aumenta ancora di più la possibilità e dà la possibilità a molti di sentirsi indispensabili e quindi su ogni cosa abbiamo visto insomma gente che dalla mattina alla sera è passata dalla minoranza alla maggioranza e magari è entrata in giunta voglio dire percorsi avventurosi in altre realtà politiche qui sono all'ordine del giorno in altre realtà sono anche difficili perché ci sono regioni dove la differenza fra la maggioranza e la minoranza è su 7 8 10 consiglieri quindi è anche difficile fare queste cose e se ci si governa si governa in maniera più libera e autonoma quindi penso che è una cosa importante essendo questa legislatura si riesce a modificare questa cosa ma poi del resto è una legge regionale questa ve la potete fare come volete la dovreste modificare di nuovo penso che ci si cioè la dovreste modificare voi non credo che sia no no è un problema è un problema sulle attribuzioni comunque nazionali noi la potremmo fare però non è giusto se la si fa a livello generale quindi da quello che so io ogni legge ogni regione c'è la sua legge elettorale sì però sul numero forse con il numero del numero dei consiglieri su quello la legge poi ognuno la può modificare come vuole certo però per il Molise sono previsti 20 consiglieri esatto su Molise Marche e Basilicano dovrebbero salire da 20 a 30 magari eh 30 non lo so però e magari diciamo che poi così facciamo contenti tutti facciamo una incendia eh vabbè facciamo contenti tutti no di bacio tutti i consiglieri ripeto su questo è nazionale però ripeto noi siamo 12 e 8 quindi quello è 11 no dico se uno viene eletto viene eletto 12 e 8 più il presidente è una maggioranza veramente che si riesce a lavorare eh certo lì basta che una due persone e quindi questo crea ancora di più la la possibilità la voglia di creare i gruppi i gruppettini perché bastano due persone per creare con numeri diversi ovviamente pure in varianza di spesa non è che la spesa debba aumentare ci sarebbe da scrivere un libro su tra virgolette l'etica politica dei consiglieri regionali del Molise ci sarebbe da scrivere un libro o no lei che dice io mi ci trovo da poco il mio libro sarebbe veramente di poche pagine la cosa bella è che cambiano tutti i partiti però nessuno cambia gruppo vai a vedere poi perché non cambiano gruppo perché ogni gruppo è collegato a indemnità economiche benefici porta borse porta autisti e robe varie insomma spese ma no non è manco questo perché poi alla fine là ci sono cioè in differenza del passato ci sono le doppie cariche quindi non è questo cioè uno non può avere più di una carica oppure gli viene retribuita solo una quindi la maggior parte sono tutti con doppia carica quindi non è problema del gruppo o di altri è il problema di appartenenza di autonomia del gruppo diciamo quello sì cioè l'autonomia che uno ha di avere un gruppo proprio rispetto ad andare con un altro però non è un bel segnale insomma per la pubblica opinione d'accordo su questo non è un bel segnale insomma non è che siete proprio impeccabili no diciamo che oltre a questo uno che cambia gruppo dovrebbe cambiare pure il gruppo in consiglio ma il motivo non è quello di economico che non cambia no 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 non ci credo no perché se uno è lo dico se uno ha la se è presidente di commissione o è un altro ruolo non 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 gli modifica capite prende comunque uno vabbè però c'ha gli addetti alla segreteria e gli addetti al gruppo eh ma toccano sia se ne fai parte sia se sei capogruppo non cambia capogruppo è solo una questione di decisionare ma ogni gruppo quante persone ha come supporto come segreteria come impiegate no quello c'è un budget generale poi ognuno gestisce in maniera propria ovviamente io sono per il problema non è il gruppo io rimango sempre no nel senso che alle Iene che intervistarono l'assessore l'assessore chiamò il portaborsa a telefono disse Vincenzo Vincenzo se lo ricorda quello è stato il massimo insomma sì però lo dico onestamente cioè fuori da io sui gruppi li aumenterei pure perché i gruppi i soldi non è che vanno all'assessore o al consigliere vanno ai ragazzi che collaborano quindi cioè tagliare i soldi ai gruppi o tagliare significa che vai a togliere la possibilità a un ragazzo di avere oltre che dei soldi pure un'esperienza importante calcoliamo che molti in questa legislatura ma pure nel passato che sono poi stati eletti e sono ragazzi o persone che stavano nei gruppi che vengono dai gruppi e che sono state diciamo ebbè hanno imparato il mestiere e sono diventati politici Di Baggio lei è un uomo forte nel senso fisico chiaramente ma anche nel senso politico del centrodestra Isernino lei ha partecipato due giorni fa credito erano a riunione del centrodestra Isernino in cui c'erano Raimondo Fabrizio che credo che sia più o meno il candidato sindaco perché io glielo dico dico quello che dicono le indiscrezioni insomma che c'è un candidato sindaco di Toma di Baggio e Calenda quindi di diciamo Toma di Baggio Calenda e sarebbe Raimondo Fabrizio è un candidato sindaco di Iorio di Sandro e Forte fratelli d'Italia che probabilmente sarà probabilmente sarà qualcun altro quindi un centrodestra non lo so chi eh beh ne dicono tanti nomi adesso non è che sono in grado di rifarli posso anche dire ma sono davvero Ioriof davvero è enigmatico glielo ho chiesto l'abbiamo intervistato non si è voluto sbilanciare ha solo detto che lui comunque avrà il suo candidato quindi insomma voglio dire lui pure ha auspicato un'unità voi pure ha auspicato l'unità ma io credo che sia proprio difficile che arrivi a quest'unità o no? Di Baggio io penso che innanzitutto voglio dire Fabrizio non è il mio candidato come non lo è di 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 Toma anzi il presidente Toma assolutamente non ha della Tartaglione ma non penso cioè io non è che ho detto questo perché non voglio Fabrizio non voglio un altro perché al tavolo assolutamente quindi lei smendisce che Raimondo Fabrizio è il candidato di Toma Tartaglione di Baggio Calenda lo smendisce o non lo smendisce Allora ad oggi sul tavolo non è stato personalmente io partecipo al tavolo come movimento civico perché io quindi farò i segni a migliore i segni a migliore farò pure un'altra lista che si anticipo quante liste farà lei? Due? Io sono due stiamo lavorando per la terza lista quindi i segni a migliore Iris che sarà una nuova Iris Iris che sarà il fiore con i segni quindi impegno e rispetto per i segni quindi segni a migliore Iris e poi? E poi stiamo lavorando con un accordo con altre persone per una nuova lista e dove va? Adesso a sinistra? Io mi auguro come ho detto anche al tavolo che ci sia unità e si vada nel cenno e se non ci sarà questa unità? Ma se non c'è questa unità che sicuramente non ci sarà ma no io non penso che non ci sarà io penso le due ipotesi più sull'unità le due ipotesi ma non è un problema di unità si può andare pure diviso insieme è un problema di riconoscere il candidato sindaco nei movimenti civici quindi il problema è che se tu riconosci e c'è voglia perché il sindaco non è che lo scelgo io lo scegli Michele Iori lo scegli tu il sindaco di una città soprattutto quella come segna lo scegli io gli elettori gli elettori quindi io preferisco litigare prima che perdere dopo quindi non è un problema quindi il problema è che se il sindaco non è riconosciuto oppure non c'è quella voglia le persone poi non si candidano nemmeno quindi non si riescono nemmeno a fare le liste dovete trovare un bel nome dovete trovare un bel nome quindi personalmente si è discusso di nomi non ce ne sono stati fatti anzi si è discusso del metodo si è discusso della presente Fratelli d'Italia si è discusso del metodo come individualo quindi e qual è il metodo? il più alto il più basso il più bello questo è quindi diciamo che l'unico metodo ha eliminato 10.000 persone sono rimaste altre 10.000 quindi qual è il metodo? quindi si sta discutendo come si discute sempre io penso però questa volta si debba scegliere veramente un candidato importante che ci tiene alla città perché non possiamo permetterci ulteriori rallentamenti ma soprattutto in questa fase dove arriveranno dei fondi importanti da parte del governo ovviamente arriveranno alla regione e sarà importante poi trasferirlo secondo lei la riproposizione di Dapollonio è possibile o no? guardi io l'ho aiutato come con il mio movimento io personalmente lei sta in maggioranza attualmente? io fin quando sono stato io al comune sono stato in minoranza poi dopo adesso sta in maggioranza adesso non ci sto al comune però ci stanno i suoi quindi poi il gruppo si è anche allargato perché nel mio gruppo sono venute persone che stavano nella civica sua di Dapollonio e quindi si è diciamo allargato un po' il movimento poi c'era il rischio di andare a casa cioè che il sindaco veniva sfiduciato e questo siccome io quando ero assessore siccome un bravo ragazzo no no mi è capitato di essere sfiduciato e questo poi tra l'altro è stata la mia fortuna quindi ringrazio questi che oggi fanno tutti i nuovi quando sono quelli che oggi dicono che non va bene ma non andava bene manco prima quindi non va mai bene e quindi no per dire quindi io la domanda è rilevata da Pollonio onde evitare che venisse il commissario ho preferito appoggiare perché meglio il peggior signore è sempre meglio del miglior commissario quindi questa è la perché poi se andiamo a vedere le cose che sono state fatte in segna sono state fatte tutte dai commissari se le andiamo a analizzare quindi quindi io da Pollonio non l'ho mai votato personalmente quindi una bocciatura politica politica io penso che oggi non può essere il mio candidato da Pollonio al tavolo lo deve portare chi lo ha candidato e penso sia quindi voi andate per un'altra strada io porterò il candidato delle civiche che sarà il mio che può essere quindi lei si fa un suo candidato dopo di che tratta vediamo gli altri che dicono insomma ho capito bene di Batch andrà così al momento ho detto pure che sono disposto a non darlo se condivido quindi non ho e come la vede lei? Dica la verità ma io la vedo in questa fase adesso non fa testo perché adesso lo parlano tutti e tutti che lo vogliono fare quindi dobbiamo far stringere un po' il brodo si dice ai sedi no? sì facciamo restringere un po' e poi vediamo e la domanda cattiva finiamo tutto cattivo faccio il mio mestiere perché Andrea Galassolo l'ha lasciata no non mi ha lasciata eh Zabba l'ha lasciata eh no si è chiamata a lui io sono stato stamattina insieme quindi che è successo lui deve decidere vuole un attimo come capogruppo di decidere se si vuole ricandidare o no alle elezioni ma è vero che voleva fare il sindaco? aveva questa ambizione? no se lui lo voleva fare poteva però no addirittura lui è indeciso proprio se candidassi o no quindi questa è e sta riflettendo su questa cosa ed è giusto che lo vuole fare senza avere il ruolo di potrebbe essere Linda Dall'Olio il suo candidato? no no Linda fa parte tra l'altro non so se si candida con la Civica o con Forza Italia con Forza Italia non lo so sì perché lei poi c'ha questo questo rapporto con Forza Italia sta un po' qui un po' là anche lei si no nel senso che io non è che veniamo un po' dal mondo quindi vengo dal centro-destra perché però poi vengo dal centro bene o male quindi il partito più moderato che c'era al momento era o Forza Italia o l'Udc quindi e ho scelto Forza Italia però la mia idea è sempre quella di un'area moderata senta Di Baggio si parla anche della riproposizione di Melogli ma sono solo chiacchiere potrebbe mettervi d'accordo tutti Melogli? ma io ripeto ad oggi nomi non ne sono stati fatti perché pure chi lo vuole fare non lo caccia adesso perché adesso escono i nomi di persone che devono essere bruciate quindi siccome io personalmente non intendo bruciare nessuno per me se lo tiene per lei se lo tiene se lo tiene ma no no guarda io realmente ancora non non riesco a individuarlo perché deve essere esigente oggi si arriverà a un punto dove le persone per candidare dobbiamo convincere e perché questo senso di 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 le istituzioni di di ultimamente diciamo è un po' sceso perché la gente si è accorta che che fare quel populismo quelle cose alla fine vediamo la fine che hanno fatto i 5 stelle mezzo ma lì lì siamo al massimo dei minimi e quindi però in quel periodo la gente ci credeva no cioè credeva a quelle cose credeva al vaffa di però le istituzioni vanno a rispettare ma no ma no perché ci sto io perché ci sta come faranno i primi nati da un vaffa puntini puntini a riconoscersi in un conte che tutto può fare perché il vaffa insomma è davvero una grossa contraddizione in termini di Baggio una domanda buona la vuole alla fine eh una una se lei fosse stata ai lavori pubblici Castelpizzuto oggi sarebbe collegato o no? allora io dico di sì allora io dico di sì vado oltre perché la programmazione io conoscendo il vecchio di Baggio del comune di Sene io so che lei stava lì e aveva chiuso la frana o sbaglio? no no donna la notizia che la delibera per il finanziamento del Castelpizzuto siccome era programmazione era pronta è pronta quindi verrà portata in giunta a breve ma non perché c'è stata la frana quindi questo lo possiamo l'avevate immaginata la frana? no là già c'è una richiesta fatta dai cittadini da tempo dove ci sarà un finanziamento di oltre un milione d'euro richiesta sia dal sindaco di Lugano che di Castelpizzuto che dalla provincia quindi c'è stato il periodo di ritrovare i finanziamenti perché quelli dovevano essere presi nel patto per il suo e allora quando è che questa gente può tornare a casa? ma la frana prima di tutto stanno analizzando quali sono i motivi della frana e quindi penso che una volta ultimati verranno quella è somma urgenza quindi i lavori verranno fatti non è che poi lascia un paese ma dico la verità o la bugia che se di Baggio l'assessore è già chiusa la frana? ma era chiusa la strada? dico la verità la conosco la conosco so che sarebbe stato con la mano in mano con la mano in mano sicuramente non è voglio pure dire una che ci tengo il fatto dell'elettrificazione se oggi i nostri cittadini vanno a fare un giro alla stazione vedono che è in fase di ultimazione quando potete andare in treno dai segni a Capobasso? ma a me interessa più andare dai segni a Roma ho detto questo perché la tratta di segna Roma poteva essere fatta prima quindi io non capisco perché con il finanziamento che si è aspettati di realizzarla interamente e lo chiede a noi a noi lo chiede a tecnici no prima negli anni passati siete voi che capiste ma noi l'abbiamo fatta dal primo giorno vabbè prima pensavano a fare le metropolitane dai facciamo le metropolitane le cose più importanti di segni a Capobasso in treno comunque a parte questo quando andremo in treno realmente? tempi? io penso che sarà questione proprio di di pochi mesi quindi puntiamo a a farlo se riusciamo a chiudere ovviamente non la seguo direttamente sempre io penso che nel giro di pochi mesi inizio massimo del prossimo anno si potrà già utilizzare e quindi è una cosa che aspettiamo per i segni a Roma per Capobasso un po' più di tempo no no si sta andando avanti pure là i segni a Roma si autorizza si potrebbe fare nel giro di pochi mesi se poi la vogliono fare totale ci vuole qualche mese in più con questa bella notizia come la palazzoria topi pure che è successo a palazzoria topi ormai là siamo solo topi sono anni quindi che succede a giorni verrà pubblicato l'avviso quindi la gara l'avviso per? per per ultimare i lavori a carico della regione? a carico quella è di proprietà della regione e quindi che fine farà quello stabile a chi sarà consegnato? poi al comune all'università? quello al momento è di proprietà della regione poi la destinazione anche gli uffici regionali teoricamente potreste mettere? allora io sto perché questo poi se andiamo a modificare la destinazione è il mio pensiero quindi si perde troppo tempo intanto facciamo la ristrutturazione del mio pensiero che rivolgerò al presidente a chi di dovere quella di avviarla subito e poi in corsa vediamo la destinazione attualmente sono gli uffici regionali addirittura la sede del consiglio eccetera certo certo fare come in Abruzzo il consiglio all'Aquila la giunta a Pescara sarebbe un'ottima idea mi dispiace solo per il covid però ci riproviamo per l'università noi venimmo pure a fare un sopralluogo correttore all'estate scorsa per il palazzo dei topi per o per la Giovanni Meditresi no no io avevo l'idea di partire o subito con i corsi di alta formazione che tra l'altro abbiamo finanziato e che si sono fatti online quindi oltre 100 studenti totalmente gratuito hanno potuto frequentare e ottenere a giorni un master di specializzazione e lo potevano fare tranquillamente sui segna quindi c'era l'accordo con l'università di partire subito con l'alta formazione e con il TFA e poi c'è stato il covid e si è fatto online ora online ora stiamo riprendendo lei parlò della Giovanni XXIII allora la mia idea non la dico era quella di attualmente quindi partire subito e fare i master e TFA alla Giovanni XXIII andiamo pure a fare sopralluogo col lettore col direttore col sindaco c'era pure il sindaco e dovevano iniziare a diciamo ad arredare per fare questo poi c'è stato il problema della pandemia e si è bloccato tutto però l'idea mia principale è quella di spostare il comune perché l'università il problema principale è perché si ritarda e non riusciamo a portarla ai segni perché ha bisogno di un immobile storico non la puoi mettere cioè l'università l'università di una certa di manza storica l'idea è quella di metterla dentro dove stiamo il comune che è la cosa più segnale l'università e il comune lo possiamo mettere a giorni XXIII per guadagnare tempo senza che aspettiamo ristrutturazioni lavori e cose perché bella idea mi piace ovviamente giù lasciamo gli uffici dell'anagrafe da postoncino quello di giù così eppure per il centro storico per le frazioni sopra l'università e sotto mentre il comune consiglio comunale ha la Giovanni Vittresi tutto ha la Giovanni Vittresi beh speriamo che le fanno fare queste cose questo è una una cosa poi dico il sindaco perché non perché deve sposare prima di tutto dei progetti tra cui c'è questo se uno prende l'impegno su queste cose io non ho difficoltà ma si poi ci sono altri impegni c'è l'impegno ad esempio di rivedere subito la macchina amministrativa cioè io al comune di Segna ci ho lavorato lei in questo è ammirevole ha salito tutta la diciamo così lei si è arrampicato per la scala geratica dal gradino più basso per questo nessuno le ha regalato nessuno le ha regalato questo la ringrazio nessuno le ha regalato niente mi fa onore personale perché è stato veramente perciò le ho detto che stava lei che a steppituto c'era collegata però la prima cosa che fa è organizzata la macchina amministrativa il sindaco ci vuole un sindaco che va là si chiude non riceve nessuno per i primi di dipendenti non riceve nessun dipendente per i primi dieci giorni nessuno quindi deve stare là con il generale ridisegna la macchina amministrativa assegna le dirigenze tutto l'organigramma organizzativo e poi li diceva dopo fatto questo deve essere facile però ripeto è fondamentale perché sul personale abbiamo pure lo stesso problema sulla regione perché oggi se tu non stai al passo con le annualità rischi poi anno per anno di perdere la capacità occupazionale cosa che è successo al Comune di Sera cioè noi abbiamo perso decine e decine di dipendenti dove se tu non fai le procedure le giuste manovre le giuste manovre l'anno dopo riparti da zero e non puoi prendere nessuno beh abbiamo forse qualche zavorra che impedisce di fare tutto questo comunque io ringrazio il nostro caro sottosegretario Roberto Di Baggio e per la presenza vi lascio uno e vi saluto anche perché dopo la pubblicità andrà in onda uno speciale di Barbara Fino sulle serate del post pandemia a Isegno io vi saluto ringrazio il nostro tecnico Cosmo Di Leonardo per la regia e vi lascio dopo la pubblicità con Barbara Fino buonasera bene ringrazio il collega Enzo Di Gaetano per la linea intanto noi siamo pronti per chiudere quest'ultima parte di ingresso libero parlando ancora di ristoratori di titolari di attività commerciali che finalmente in zona bianca riprendono a lavorare riprendono finalmente a vivere ma soprattutto riprende anche la libertà per le tantissime persone che in questi ultimi giorni in quest'ultima settimana davvero si sono riversati qui in piazza ad Isernia per godersi davvero dei momenti insieme in compagnia senza limitazioni e senza restrizioni venite con noi e vi mostreremo appunto quali sono gli umori non solo dei titolari delle attività commerciali ma soprattutto della gente finalmente si torna alla normalità la movita le serate in compagnia erano mancate assolutamente assolutamente ma più che altro abbiamo vissuto un anno e mezzo davvero difficile quindi secondo me è giunta l'ora soprattutto adesso qui siamo tutti vaccinati pian piano ci stiamo vaccinando ci mancava comunque stare in compagnia e vivere finalmente dei momenti spensierati ora si dovrà soltanto pensare al futuro e stare anche attenti assolutamente sì sì attenti relativamente nel senso che io penso una volta che tutta la popolazione sarà vaccinata diciamo dovrebbe essere sconfitto questo coronavirus finalmente uno spiraglio di luce si inizia a vedere dai speriamo quest'estate hanno levato il coprifuoco meno male la repertura dei locali no mi fa molto piacere speriamo insomma di tornare alla normalità ma vediamo la mascherina vabbè per adesso è obbligatorio ancora ci sta cosa vi è mancato di più? sicuramente uscire anche a fare un semplice aperitivo perché era veramente impossibile ma anche passeggiare anche con gli amici soprattutto questo ragazzi finalmente riapre la movida finalmente ritorna la vita allora come vi sentite con questa riapertura? sicuramente migliori cosa vi è mancato di più? sicuramente la libertà lo stare con gli amici divertirsi bere bere insieme e gli altri e stare bene in giro e soprattutto senza qualcuno che ti dice l'ora che devi fare studi, lavori cosa fai? quindi insomma già dopo il lavoro tornare a casa rimanere chiusi era difficile mi mangi ti fai una doccia non hai manco il tempo di uscire a berti una birra quindi invece così potete passare un po' più di tempo con i vostri amici insomma chiacchierare finalmente riprendervi tutto quel tempo passato in casa sì esattamente anche perché c'è mancato proprio noi siamo studenti è mancato proprio quel stare insieme che ci unisce tanto cosa si prova a girare per la città in libertà non avere il coprifuoco poter bere un drink all'aperto bello libertà come si sta vivendo questo periodo di libertà finalmente dopo tanti mesi di chiusura buonasera innanzitutto a tutti diciamo che io l'avevo in maniera tranquilla però sempre con le dovute insomma precauzioni il distanziamento la mascherina il desinfettarsi abbastanza le mani anche perché io sono un osso quindi chi meglio di me insomma non può capire insomma anche il momento che possiamo diciamo che meglio evitare alcune alcune circostanze come trovarsi magari un ipotetico insomma contagiato sì finalmente una riacquisita semilibertà con questa zona bianca si può finalmente uscire come vi sentite? libere 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 sentite ma cosa vi è mancato di più in tutto di tutto questo periodo? stare in mezzo alla gente allora anche la vostra attività gioisce di questo periodo di zona bianca e ci voleva sì esatto stessa cosa sia dal punto di vista del dell'imprenditore che investe nel locale che ha il locale sia dal punto di vista soprattutto delle persone che avevano bisogno un po' di ritornare a vivere ritornare a conoscersi a incontrarsi in queste situazioni quindi era necessaria una riapertura però restiamo sempre attenti perché il pericolo non è scomparso quindi anche qui nel nostro locale cerchiamo sempre di mantenere diciamo di rispettare le norme che appunto la distanza la mascherina di restare sempre sì sul sicuro però comunque dare ai nostri clienti la possibilità di ritornare un po' alla normalità piano piano gradualmente avete sofferto molto nei periodi di chiusura immagino quindi questa improvvisa riapertura immagino che vi stia dando molto da fare sì esatto infatti proprio questo stiamo parlando in questi giorni tra i miei colleghi e i nostri proprietari proprio perché appunto abbiamo sofferto molto diciamo quando appunto tra zona arancione poi soprattutto il periodo di zona rossa siamo ripartiti e abbiamo avuto possibilità di ripartire anche facendo buoni numeri soprattutto all'esterno quindi è stato necessario un diciamo ritornare all'opera in modo sì veloce però allo stesso tempo in modo diciamo impeccabile cerchiamo di essere impeccabile cerchiamo appunto speriamo che i nostri clienti abbiano notato questo anche se per adesso sembra facile perché tutti quanti hanno voglia di uscire e sono contento per questo si è ripartiti si è ripartiti bene ci sta tanto entusiasmo ma soprattutto c'è tanta voglia di vivere la normalità sia da parte nostra come commercianti che da parte delle persone della gente c'è un'esplosione un'esplosione di tutto commerciale di ragazzi di persone da fuori c'è tanta gente tutti che si comportano bene che è la verità tutti con la mascherina finché possano e niente noi siamo contenti speriamo di continuare su questa strada il più possibile sei fiducioso cosa prevedi per settembre ottobre? io mi auguro che con questo accorciamento dei vaccini non ci sia un'altra chiusura perché altrimenti come tutti noi andiamo veramente in crisi e in difficoltà e tutta la filiera va in difficoltà non solo noi commercianti in primis ecco qua chi va a subire noi personalmente come proprietari ma poi chi paga l'affitto i ragazzi che lavorano i rivenditori di birra di merci tutto va tutto a scatafascio e non credo che riusciamo a mantenere un'altra botta non credo tranne se ma parliamo di utopia degli aiuti economici ma che non vogliamo non vogliamo assolutamente perché vogliamo il nostro lavoro vogliamo la libertà ecco qua di stare di stare qui liberi a lavorare qui stiamo consumando in libertà come cosa si prova? eh finalmente dopo tanto tempo è una sensazione bellissima che avremmo voluto provare già prima ma lasciamo la parola ai miei amici perché loro soprattutto fremevano affinché questo momento arrivasse come mai come tutti avrai sicuramente sofferto di tutte le restrizioni imposte sì effettivamente abbiamo vissuto un periodo che mai nessuno mi sarebbe immaginato questa chiusura totale stare a casa e non essere liberi di poter vivere al meglio la nostra vita che la vita è un dono e quindi effettivamente ci siamo trovati chiusi in casa senza poter apprezzare la bellezza dei posti dove in cui noi viviamo e quindi ci è sembrato veramente un grande sacrificio e abbiamo messo a dura prova la nostra forza e volontà di rimanere a casa anche se noi tre devo dire la verità per il lavoro che facciamo mai neanche un giorno siamo rimasti chiusi a casa finalmente si torna alla normalità la gente può mangiare fuori la gente può mangiare dentro si può consumare stare in compagnia senza limiti d'orario era ora assolutamente sì è stato un periodo abbastanza duro diciamo per tutti per i miei colleghi per tutti quelli coinvolti in questo settore però finalmente sembra che ne stiamo uscendo la risposta della gente c'è quindi speriamo che vada per il meglio per quest'estate sicuramente avete avuto anche tempo purtroppo direi in questa pandemia anche magari di fare degli aggiustamenti per mettere nuove idee per i vostri clienti sì assolutamente gli spunti ci sono stati sono stati molti vediamo è il momento adesso di metterli in pratica quindi con lo sdoganamento appunto delle libere uscite speriamo di fare del nostro meglio si vede la differenza soprattutto su una sicurezza che anche se il tempo fa un po' di smorfie possiamo mettere la gente dentro il problema era quello in questi giorni che comunque dovevi stare a guardare più che clienti in aria e il meteo quindi adesso si lavora più tranquilli c'è voglia di riuscire di rivivere e di tornare a socializzare le persone sempre con le dovute precauzioni quindi distanziamento tutto quello che le attitudini igienico-sanitarie tra la gente molto più predisposta al voler godersi un passo un calice di vino buono dopo un anno e mezzo quasi di chiusure è una bella sensazione rivedere la gente rivedere la vita Isernia siamo stati chiusi in casa un anno quindi la bellezza di stare a tavola con gli amici a bere due cose è sicuramente una bella emozione ecco speriamo che vada tutto bene che tutti si vaccinino e che il comune faccia il suo dovere siamo con lo chef Gaetano Minervini di un ristorante qui del centro storico allora chef finalmente con la zona bianca si può ricominciare a cenare anche all'interno insomma un segnale sicuramente di speranza e di ripresa dopo tanti tanti mesi come sta andando? allora grazie a Dio sta andando bene abbiamo fatto un ottimo fine settimana anche lunedì abbiamo lavorato insomma la gente ha voglia di uscire anche se un po' di paura ce l'hanno ancora perché ecco mi è capitato lunedì di avere 5-6 persone dentro e 4-5 hanno mangiato in piazzetta qualche timore ancora c'è però è migliorato tantissimo noi stiamo lavorando ecco ricordiamo che all'interno si può mangiare fino ad un massimo di 6 persone per tavolo sì sì ecco di fatti se vedete la disposizione dei tavoli sono ben sistemati ecco le distanze giuste quando si alzano dal tavolo con la mascherina insomma stiamo andando bene dai lei si occupa anche di banchettistica appunto cucina anche per matrimoni comunioni e eventi di questo genere come sta andando invece quel reparto? là stiamo ancora un po' soffrendo di fatti parecchi matrimoni si sono spostati all'anno prossimo però c'è chi li fa ecco però i numeri purtroppo sono diminuiti di parecchio le 300 persone le 200 persone difficilmente le facciamo il 50-60% dai però le facciamo sì invece con la faccenda del Green Pass ad esempio si è parlato con degli sposi cosa dicono come faranno? sono preoccupati ci chiedono in continuazione come va perché la situazione di settimana in settimana sta cambiando e niente grazie ai vaccini si sta migliorando tantissimo e vogliono sapere in effetti ci vuole Green Pass e 48 ore per il tampone altrimenti l'evento non si può fare quindi si potrebbe pensare magari al posto della bomboniera un tampone per tutti gli invitati assolutamente questa è un'ottima idea la proporrò in sede sì 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 bella bella ebbene come avete ascoltato c'è davvero tanta tanta voglia di normalità come vedete anche alle nostre spalle c'è ancora tanta gente che sta consumando anzi probabilmente saranno anche appena arrivati ma è giusto che sia così noi vi ringraziamo per aver seguito la nostra trasmissione ingresso libero l'appuntamento è alla settimana prossima grazie grazie